Purtroppo ragazzi, ho fatto un fail, ci manca un po' di spazio, quindi io devi tornare indietro, stendere qualche altro zombie. Si stendiamolo ma prima ricarichiamo la pistola perché... Non mi laggare, ti prego. Usiamo la chiave dell'armatura. Uh, munizioni, pistola. Fucile rotto, qui che c'è? Ah, non ci sta. Mmm, vabbè torniamo indietro le ragazze alla save room. E' vero che bisogna stare attenti ai proiettili, però... Ah sì, questi li lascio in vita. Per il momento. Meno male questo non è nel remastered. Che nel remastered si trasformano in crimsoned. Facciamo un po' di ordine. All... Sì, posso andare avanti così per ora. Tanto non dovrei venire ucciso. Ok, schivata. Prendiamoci le umanizie che non fanno mai male. Proietti i lozzi. Per il fucile. Scusate ragazzi, ma c'ho un raffreddore tremendo. Questo mi tocca per forza eliminarlo. Ma io vi elimino tutti, sì. Ma chi se ne frega, non tu? Tra poco dovremo trovare altri colpi per la pistola, se non sbaglio. Qui che c'è? Che non ricordo. Ah, la stanza della tigre. E qui se non sbaglio ci dà un'altra... Ci dà qualcos'altro. Non mi ricordo. Abbiamo usato il lockpick. Gilles è un grande ad avere il Gimaldello. E qui c'è un simpatico amico che me lo ricordo che ci vuole fare una sorpresa. No, non laggare, per favore. Oddio, lo zombie. Ciao, ciao. Buonanotte. Altre munizie. Questo era quello che, se non sbaglio, si trasformava. Ehi, ci testi. Mmm, buono. Dev'essi stato buono, Scott. Vabbè. E dai. Su. Non laggare... L'ho sbloccato. Usiamo il Gimaldello e andiamo. Ah, questa è la stanza del pianoforte. Eccola qua. I found... Un gran... Un pianoforte. Vediamo un po'. Quaderno musicale. E via. Vai, Gilles, suonaci qualcosa. Bellissima Moonlight sonata. E via. Grazie a tutti. Prendiamo l'emblame d'oro. Mettiamo questo. Allora andiamo a posizionare l'altro emblema e a prendere l'occhio di tigre. Sbaglio sempre il tasto, scusate. Allora andiamo a mettere il gioia allo blu. Continuiamo con l'esplorazione della villa. Mamma mia che fra un po' ci saranno i nostri amichetti. Mamma mia, non li sopporto. Usiamo l'occhio. Ci dà lo stemma del vento. Vediamo un po' che fare. Sì, continuiamo un po' di esplorazione, ragazzi. Intanto prendo subito la chiave anche se non lo... Oh, permesso. Prendiamo subito questa chiave. E andiamo a usarla. Ricariciamo le munizie per la pistolina e via. Sì, abbiamo usato la chiave dell'armatura. Allora, via. Sì, abbiamo usato la chiave. Altre munizie... sì. Vai giù. No! Mi ha fregato! E dai, sono... Sono giallo, uffa... Sono Simpsons.